Tissot Eritage, eleganza retro nell'orologio svizzero. Il Tissot Eritage è noto per le sue caratteristiche uniche che lo rendono un vero gioiello. 1. Design vintage affascinante. Con forme di cassa e quadranti che richiamano le epoche passate, il Tissot Eritage si distingue per il suo stile retro chic. 2. Movimenti moderni. Pur conservando l'aspetto retro, l'orologio è dotato di movimenti moderni di alta qualità, garantendo precisione e affidabilità. 3. Materiali di eccellenza. Utilizzando materiali pregiati come l'acciaio inossidabile, oro o ceramica, il Tissot Eritage offre robustezza e durabilità. Il vetro zaffiro antigraffio e la scelta di cinturini in acciaio inossidabile o pelle conferiscono un tocco di eleganza. 4. Diversità di modelli. Con una vasta gamma di modelli, ciascuno ispirato a un'epoca diversa, il Tissot Eritage si adatta a una varietà di gusti. Tissot Eritage Gent Auto 1938. Il suo quadrante sabbiato, evidenziato da numeri arabi in rilievo, parla della semplicità e del design distintivo del passato. Protetto da un involucro in acciaio inossidabile 316L e offre resistenza all'acqua fino a 50M, è un partner raffidabile per la vita di tutti i giorni. Il movimento certificato COSC garantisce una precisione costante, mentre il classico cinturino in pelle a grana offre comfort e stile. Con una dimensione di 39 mm, è una scelta raffinata per gli appassionati di artigianato e storia. Tissot Eritage Visodate. Nel quadrante ritroviamo il datario e il logo storico di Tissot. Tissot Heritage Visodate Powermatic 80. Tissot ha celebrato il suo centenario negli anni 50 con una serie di innovazioni. Uno di questi era l'integrazione di una funzione di data nel movimento automatico di un orologio chiamato Visodate. La bellissima collezione Tissot Heritage Visodate è stata ampliata con un movimento Powermatic 80 con una riserva di carica fino a 80 ore in spirale in niva cronamagnetico. Cassa in acciaio inossidabile 316L con quadrante in vetro zaffiro resistente ai graffi e ampia visibilità per evidenziare la visualizzazione della data. Esplora il fascino Retrosheet del Tissot Heritage e scopri un mondo di eleganza che sfida il passare del tempo.